eccoci ragazzi bentornati sul mio canale il giorno dopo del day one degli iPhone 16 finalmente cominciano a trapelare anche nuovi dettagli e nuovi contenuti soprattutto sono degli aspetti di cui mi avete chiesto più informazioni nei giorni passati e non solo ma quanto dura la batteria dell'iPhone 16 l'abbiamo visto in termini di indicazioni da parte di Apple le riaffronteremo appunto su questo video con i dati ufficiali ma soprattutto sono arrivati i dati a quanto pare proprio ufficiali della proprio capienza e della grandezza delle batterie dell'iPhone 16 che quest'anno stando a dati alle mani sono tutti più grandi rispetto a quelle dell'anno scorso di tutta la line up di iPhone 15 quindi mettetevi comodi perché sarà un video bello gustoso prima di iniziare vi ricordo come sempre lasciare un bel mi piace un commento per supportare per far crescere il canale e passate come sempre allo sponsor del video che nebba ogni acquisto che farei tramite i link in descrizione ai supportori del mio canale troverete tutto dei video gioie per Xbox per PlayStation gift card abbonamenti ma anche card per comprare su iTunes su Netflix su Amazon con tantissimi sconti e quant'altro prima di entrare nel vivo del video volevo darvi una piccola chicca che è arrivata proprio in queste ore da Mark Gurman di Bloomberg che ha dichiarato e ha confermato che i nuovi MacBook Air a quanto pare dovrebbero arrivare nel primo trimestre del 2025 quindi tra gennaio e marzo sono attesi i nuovi MacBook Air con molto probabilmente processore M4 perché come sapete adesso a novembre arriveranno i MacBook Pro con processore M4 l'iMac con processore M4 e il nuovo Mac Mini con processore M4 perché vi ho detto un nuovo Mac Mini rispetto anziché a dire nuovi Mac e nuovo MacBook Air perché l'unico che cambierà in termini grafici estetici e quant'altro sarà il Mac Mini che diventerà piccolissimo quasi un Apple TV poi recuperate il video ai giorni passati dove ve ne ho parlato in maniera approfondita e un'altra informazione che arriva sempre da Mark Gurman sembrerebbe proprio che per l'inizio e probabilmente o per la fine di quest'anno o per l'inizio del 2025 arriveranno anche i nuovi iPad quindi non i modelli Pro che come avete visto sono stati rilasciati a primavera ma ovviamente il nuovo iPad e stiamo sempre aspettando il Mini 7 di cui abbiamo parlato già nei giorni passati ma entriamo nel vivo del video perché vi ho detto e vi avevo promesso informazioni sulle nuove batterie dell'iPhone 16 andiamo a vedere questa grafica dove Apple Hub ha riassunto i dati che sono arrivati in queste ore a quanto pare in maniera ufficiale e quindi come potete vedere tutte le batterie sono diventate più capienti la cosa molto curiosa che addirittura il Pro quindi il 16 Pro è quello che ha visto un aumentare più significativo rispetto a tutti gli altri modelli quindi partiamo da un iPhone 16 che ha 3561 mAh con un incremento del 6,3% rispetto ovviamente al 15 base il 16 Plus che aumenta ancora di più come capienza rispetto al 15 Plus che come abbiamo sempre più detto era un battery phone 4674 mAh con 6,6% il Pro 3582 mAh 9,4% di incremento rispetto al suo diciamo concorrente il 15 Pro e chiude il Pro Max con 4685 mAh quindi la batteria più grossa di tutta la line up anche più rispetto al Plus ma siamo lì parliamo di 10 mAh con un incremento del 6% quindi tutte le batterie sono diventate diciamo più cicciotte le informazioni sono arrivate proprio in queste ore dall'agenzia brasiliana Anatel tramite Blu2WiPhone e quindi sono dati a quanto pari ufficiali se vogliamo definirli così sa di fatto che con la batteria più capiente e con i nuovi processori che anche se sono più potenti vi ricordo che sia la 18 che la 18 Pro hanno il processo a 3 nanometri di seconda tecnologia anche se sono molto potenti sono meno vanno meno ad incidere sulla batteria quindi un incremento proprio della capienza 1000 mAh della batteria e una migliore gestione energetica grazie a dei processori che non vanno appunto a scaldare e ovviamente a consumare più batteria questo aumenterà la longevità e la durata della stessa andiamo a recappare proprio gli orari e soprattutto le statistiche ufficiali che ha detto Apple in merito alle durate io vi parto dai 15 e vi dico poi il confronto con il 16 in base appunto a queste indicazioni l'iPhone 15 viene riportato che ha 20 ore di riproduzione video 16 ore di streaming video oppure 80 ore di audio il 16 base invece ne avrà 22 di riproduzione video 18 di streaming video e 80 ore audio quindi sull'audio sono identiche ci sono uno sfasamento di due ore in più in termini di durata sul 16 base rispetto al concorrente il 15 plus che come già vi ho detto era un battery phone perché dura veramente tanto 26 ore di riproduzione video 20 ore di streaming video 100 ore di audio il 16 plus di quest'anno invece avrà 27 ore di riproduzione video 24 ore di streaming video e 100 ore di audio quindi audio uguale un'ora in più di riproduzione video ben quattro ore più in durata in termini di streaming video il 15 pro che aveva 23 ore di riproduzione video come durata ufficiale comunicata ad Apple 20 ore di streaming video o 75 ore di audio il 16 pro di quest'anno con l'aumento della capienza della batteria del 9,4 per cento a 27 ore di produzione video 22 ore di streaming video e 85 ore di audio quindi come potete ben sentire il 16 pro di quest'anno fa uno step molto importante rispetto a quello dell'anno scorso chiude il pro max che è quello sicuramente più divertente quest'anno soprattutto con una capienza aumentata rispetto all'anno scorso e ovviamente con un display più grande di tutta la sua categoria e andiamo a vedere le statistiche su questo il 15 pro max dell'anno scorso dichiarava 29 ore di riproduzione video 25 ore di streaming video e 95 ore di audio sentite bene quanto viene comunicato da Apple in termini di durata sul quel nuovo 16 pro max 33 ore di riproduzione video quindi quattro ore rispetto a quello dell'anno scorso 29 ore di streaming video anche qui un guadagno di quattro ore e 105 ore se sentiamo ovviamente audio e qua parliamo invece di una differenza di 10 ore quindi sicuramente un plauso a Apple sia perché è riuscita su tutta la line up soprattutto sui base dove non è aumentata la scocca ma grazie all'incremento di miliampere d'ora e soprattutto i nuovi processori riesce a dare più durata la batteria su tutti e quattro i modelli come io ho detto sia in termini di miliampere sia in termini di processore veramente importanti gli step sotto questo aspetto di quest'anno dovremo vedere soltanto una volta che sarà introdotta l'Apple Intelligence e come ho detto arriverà con la 18.1 soltanto in lingua inglese quanto consumeranno questi dispositivi perché bisognerà vedere quanto impatterà l'intelligenza artificiale sui dispositivi perché come vi ho detto la gran parte delle funzioni andranno a succiare passatemi il termine le risorse di sistema soltanto alcune andranno invece ad incidere sul cloud e poi il prossimo anno si parla anche di abbonamenti di maggiori funzioni dell'Apple Intelligence sicuramente l'Apple Intelligence di Apple vedrà sicuramente il suo punto di forza il suo punto diciamo di tendenza quando usciranno i 17 dove i 17 avranno praticamente il supporto a tutte le lingue eccetera 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 questo sarà sicuramente un anno di transizione saremo a vedere Apple come diciamo tamponerà la situazione e le vendite di questi dispositivi nonostante questa funzione sarà limitata e avrà uno scadensario diverso per lingue perché tutte le altre come francese inglese italiano le vedremo il prossimo anno poi torneremo a parlare sull'argomento quindi questo sarà sicuramente un aspetto importante sta di fatto che anche comunque sul lato batteria lo step rispetto all'anno scorso c'è stato e non di poco fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti lasciando un bel mi piace un commento e noi ci vediamo ad un prossimo video